Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di mestruazioni Per questa puntata dove andiamo ad esplorare insieme alcune delle problematiche legate proprio al ciclo mestruale in generale alle mestruazioni, un po' da un punto di vista storico, antropologico e anche abbastanza attuale E' un po' un overview totale, affrontiamo in maniera molto onesta e sincera qualcosa che per me è ancora troppo tabù in generale nella nostra società, nel modo in cui ne parliamo, nel modo in cui fatichiamo anche proprio a dire ad alta voce mestruazioni ed è il motivo per cui me lo sentirete ripetere tipo 500 volte in questo video, mi dispiace Penso sia uno spunto interessante un po' per tutte le persone che sono qua approdate su questo video, non vi lasciate intemorire Ovviamente come sempre giù nell'infobox trovate una serie di articoli, approfondimenti, studi, ricerche scientifiche Insomma ho cercato di mettere tutto, tutti i riferimenti che mi hanno portata a scrivere questo video Ci sono anche dei consigli di lettura, in realtà questo video nasce perché volevo parlarvi di tre titoli legati alla questione delle mestruazioni Poi alla fine è diventato troppo lungo, ho iniziato a contestualizzare, come solito mi faccio prendere la mano E quindi magari ne parliamo più avanti nello specifico dei vari titoli legati al ciclo mestruale Però intanto trovate giù nell'infobox tutte le info che vi possono servire Io direi però che è arrivato il momento di iniziare Contata frizzantina che inizierei con una citazione che vado a leggervi La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori del tempo delle regole o che lo abbia più del normale, sarà immonda per tutto il tempo del flusso secondo le norme dell'immondezza mestruale Ogni giaciglio sul quale si coricherà durante tutto il tempo del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale si corica quando ha le regole Ogni mobile sul quale siederà sarà immondo, come lo è quando essa ha le regole Chiunque toccherà quelle cose sarà immondo, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà immondo fino alla sera Quando essa sia guarita dal flusso, conterà sette giorni e poi sarà monda tratto dal levitico 15, 25 e 28 Quindi insomma partiamo già frizzantini Da sempre nel corso della storia e anche all'interno di innumerevoli culture Però badate bene, non tutte Anzi, le mestruazioni sono state in qualche modo mistificate, demonizzate tramite l'alimentazione di preconcetti, pregiudizi, stereotipi, miti e leggende potremmo dire che hanno contribuito progressivamente alla loro esecrazione culturale Nonostante siano un fenomeno fisiologico naturale di grande rilievo Per moltissime donne cis, ma non solo Che occupano circa 5-6 giorni al mese Forse meno, forse di più Dipende dalla fisiologia ovviamente di ogni persona Per circa 40 anni Rimane un argomento ancora estremamente tabù a livello di conversazione E per quanto magari sia un argomento che viene discusso all'interno di circoli ristretti Quindi magari con le amiche, con la mamma, con insomma una cerchia prevalentemente femminile Poi comunque di persone fidate Moltissime persone ancora faticano a parlare di mestruazioni con magari parenti e amici O con persone altrettanto fidate Soprattutto con uomini E renderlo un normale argomento di discussione Perché a volte si rende necessario discuterne Perché è qualcosa che impatta anche banalmente il momento nel quale ci si può ritrovare Però ovviamente tutti imparano subito forse una delle frasi più amate dalle donne Ovvero Che hai? Hai le tue cose? O quello non manca mai, ve lo giuro Ah, nel video vi premetto Cercherò di rimanere il più possibile gender neutral Anche se spesso mi capiterà di usare il femminile Che non è assolutamente e volutuamente usato per escludere gli uomini trans Ma a volte tenderò ad usare il femminile perché mi riferisco a persone E a volte mi capiterà invece che adottare il maschile plurale Visto che è una cosa che condividiamo tutti Se in questo caso ogni tanto adotto anche il femminile plurale Me lo perdonerete, spero Non è chiaramente fatto con volontà di escludere nessuno Nella categoria di persone che hanno le mestruazioni Il tabù delle mestruazioni è ancora profondamente radicato nella nostra società Cioè è innegabile Anche nella società contemporanea Che in teoria ci sembra più libera nel trattare certi argomenti Sia nelle culture diciamo occidentali Che noi consideriamo occidentali Sia anche quelle in paesi in via di sviluppo In paesi di aree geografiche Con cui noi tendiamo a non avere dei contatti O averne il meno possibile Insomma anche nella modernissima società occidentale Ancora non si parla di mestruazioni Un recente studio commissionato da Thinx Che è un brand produttore di indumenti intimi Possiamo dire legati proprio al ciclo Insomma quindi per intenderci le mutande assorbenti E quel tipo di dispositivi lì Ha infatti evidenziato quanto Diciamo abbiamo assimilato in una maniera così potente Il tenere nascosto proprio il ciclo mestruale Diventa una necessità questa sorta di velo Di copertura, di non parola che noi ne facciamo Insomma come qualcosa che sia da tenere celato A tutte le persone che sono a noi circostanti Sia nociva per il benessere psicologico Soprattutto per le ragazze e le donne Nelle società occidentali europee Dico soprattutto non perché nelle altre parti del mondo O in altri tipi di società non sia così Ma perché il campione analizzato da Thinx È prevalentemente occupato da persone Di ambiente occidentale europeo Ma i condizionamenti che influenzano L'atteggiamento che le donne in generale hanno O assumono nei confronti del proprio ciclo mestruale Derivano in realtà spesso da fonti esterne Una persona su cinque infatti ha dichiarato Di aver provato vergogno e sperimentato sentimenti negativi In relazione al proprio ciclo A causa di commenti A causa di un commento pertinente Rivoltole da una persona di genere maschile Forme di umiliazione Denigrazione Riduzione ad una condizione per cui provare vergogna Piccoli incidenti che possono essere capitati Un senso di grande vulnerabilità Sia in ambito familiare che scolastico Esattamente così che un tabù continua ad andare avanti È così che si perpetra un tabù E quando si approda nel mondo del lavoro La questione non cambia Quindi con il crescere dell'età Questa cosa non cambia assolutamente Anzi, il 51% degli uomini intervistati Ha dichiarato che ritiene inopportuno Che una donna parli del proprio ciclo mestruale Sul luogo di lavoro Che è discutibile la questione dell'appropriatezza Ne possiamo parlare Ma come ogni esigenza naturale Non è assolutamente questione di appropriatezza o meno Ma molto spesso si tratta di vere e proprie esigenze E soprattutto di condizioni del proprio luogo di lavoro Che possono rendere più difficile La gestione del ciclo per una persona A causa di quanto prima Non stupisce assolutamente Che la maggioranza delle donne Ha dichiarato di sentirsi quasi in dovere Di nascondere O essersi sentite in dovere di nascondere Il fatto che in uno specifico momento Avessero le mestruazioni E anche quando si parla di mestruazioni A livello domestico Tantissime persone non riescono nemmeno A discuterne con il proprio nucleo familiare Più stretto In moltissime famiglie Anche solo nominare mestruazioni ad alta voce Non è mai successo Difficilmente ci si libera dello stigma Che fa sentire sporche Le persone che hanno le mestruazioni E io mi chiedo Se rimane un tabù in famiglia Che in teoria è un ambiente Dove la confidenza è un po' superata Come può non esserlo Anche in ogni ambiente In ogni luogo Al di fuori della porta di casa Mentre ovviamente diventa un argomento inevitabile Un po' per tutti gli uomini e tutte le donne Che convivono con persone che hanno il ciclo Insomma è un argomento di discussione Che in certe occasioni Non diventa più evitabile Certamente però È da dire che ora le cose Sicuramente stanno un po' cambiando Anche solo rispetto a 10-15 anni fa Ma ci troviamo a fare i conti Sia con la storia millenaria Che le mestruazioni si portano appresso E la stigmatizzazione che le caratterizza E soprattutto con un cambiamento Troppo lento nella discussione Perché ovviamente i cambiamenti culturali Avvengono in maniera estremamente lenta E solo quando condivisi Vero che ci avevano detto che il 2015 Era l'anno delle mestruazioni L'anno della tampon tax e tutto Poi c'è stato il 2018 E poi è arrivata la discussione parlamentare Sulla riduzione dell'IVA Che per anni era stata portata avanti Praticamente solo dai collettivi transfemministi E da Pippo Civati Insomma è possibile Ma in Italia poi questa discussione è diventata pressante Un po' di più nel 2019 Eppure cos'è cambiato? Noi ancora la tampon tax Non siamo riusciti a raggiungerla Quanto ci sentiamo più a nostro agio? E quanto siamo realmente più ascoltate e supportate Su questo tema? O quando parliamo di problematiche legate alle mestruazioni? Pensate semplicemente alla scuola, al luogo di lavoro Quanto spesso può esservi capitato di trovarvi in situazioni Dove avete faticato nel trovare condizioni igienico-sanitarie Adatte a cambiarvi magari l'assorbente O ancora peggio la coppetta Quanto spesso anche solo manca un lavandino Un bidet nei bagni Quante volte magari avreste voluto parlarne Proponendo anche magari l'integrazione di dispositivi a supporto Soprattutto nelle scuole, nei luoghi di lavoro E poi aver ovviamente cambiato idea Non aver trovato magari il coraggio Le condizioni, l'ambiente Che accettava questa discussione Oppure se o quando è successo Siete state ridicolizzate Dai vostri compagni di scuola Dal personale scolastico Oppure dai vostri colleghi O dai vostri datori di lavoro O poi magari non vi è successo E avete visto accolte le vostre richieste Quindi big up se è successo Big up per voi Ma molto spesso non è così Anzi, queste sono grandi eccezioni In un sistema che in realtà Continua a non voler parlare di queste cose Continua a non voler trovare soluzioni Guardate anche solo alla richiesta di abbassamento dell'iva Per gli assorbenti Ed è un falso problema E si risparmia troppo poco Io non penso che quel risparmio Vada ad incidere sulle tasche delle donne italiane Come detto anche da un grandissimo youtuber Che fa informazione qua su youtube È un dettaglio Eh ma allora questo È la carta igienica Mica te la regalano Eh ma questo È mai l'altro Oppure come ci aveva detto Anche un componente della nostra forza parlamentare Potremmo usare tranquillamente quelli biodegradabili E come rispose una mia amica Scusate è una grande citazione personale È chiaro Tra l'altro proprio l'iva abbassata dal 22% al 5% È esattamente ha colpito solamente la categoria degli assorbenti biodegradabili E non tutti gli altri Senza stare a scomodare Carrie di Stephen King Che ha una rappresentazione abbastanza cruenta di alcuni momenti E soprattutto di questo momento Diciamo che in generale L'arrivo delle prime mestruazioni nella vita di una ragazzina Non è né un episodio violento O così violento Né così traumatico Però è spesso un episodio che è abbastanza indelebile Nella memoria delle persone O che lascia comunque un'impressione persistente Io ad esempio ricordo benissimo quel giorno Mi ricordo cos'è successo Mi ricordo cosa ho pensato Come mi sono sentita Mi ricordo anche tutta la trafila dopo Anche se in casa mia non è mai stato un tabù Anzi io ho la fortuna di aver avuto due genitori Che con me di queste cose hanno sempre parlato Però questo non ha cambiato i risultati Non è stato sicuramente comunque un episodio Particolarmente piacevole Tanto che mi è rimasto impresso E come me immagino esistano tantissime altre persone Non è cambiata nemmeno molto la narrazione Che fanno i player stessi Legati al mondo del ciclo mestruale Va bene che è il mio campo Però pensate davvero a tutte le pubblicità Atroci E agghiaccianti Alle quali ci hanno sottoposte Nel corso degli anni Da quelle dove il sangue non esiste mai blu Oppure quelle che hanno dimostrato Come fosse impossibile fare cose Proprio a causa del ciclo E anzi Molto spesso la narrazione è stata molto ambigua Da un lato sì L'assorbente era la cosa che ti emancipava Che ti permetteva di fare altro Altrimenti era davvero complesso Non stupisce quindi Che una delle reazioni anche difensive E che cercano di riappropriarsi Della propria narrazione Sia del corpo Che anche del proprio sangue Anche in maniera molto accorata Spesso Si sia tradotta nello slogan Whatever you can do Cioè qualsiasi cosa fai I can do it bleeding Cioè io lo faccio sanguinando Possiamo proprio considerare Le mestruazioni E la loro narrazione Celata Come un fenomeno sociale Che ha sfruttato Lo strumento del tabù Per creare Una sorta di divisione sociale Da parte ovviamente Di un gruppo dominante Che guarda caso Era composto da chi Le mestruazioni Non le aveva Quindi genericamente Possiamo dire Gli uomini Il primo che dice Not all men Su questo video Viene bloccato Perché non è quello Il senso ovviamente La nascita dei tabù Non è mai casuale Ma molto spesso È uno strumento Creato e utilizzato Dai leader Delle varie società Nel corso della storia Anche Per stabilizzare Confermare E legittimare Le gerarchie di potere In riferimento Proprio al ciclo mestruale In quanto Un simbolo La manifestazione Dell'inquinamento Corporeo È stato E viene ancora Sfruttato Per giustificare Le gerarchie Di genere Esistenti I.M. Thomas Che trovate giù Nell'info box Ovviamente Tutto quello che vi serve Per approfondire Analizza come Il tabù relativo Al ciclo mestruale Venga impiegato Per creare Una classificazione Tra individui Appartenenti Alla stessa società O alla medesima comunità Infatti È solamente Tramite l'individuazione Di un capro espiatorio Che in questo caso Anche Cioè Visivamente Vabbè Lasciamo perdere Un discorso serio Comunque Insomma È solo tramite L'individuazione Di un capro espiatorio Che diviene Possibile Produrre La differenziazione Che giustifica Il concetto Di identità E noi sappiamo benissimo Come la società Tende a trattare Tutto ciò Che considera Diverso O differenziato Il ciclo mestruale Forse Più che Qualsiasi Altra cosa Ci mette Di fronte Al significato Stesso Stesso Di alterità E di rappresentazione Del corpo È la manifestazione Di qualcosa Di incontrollabile O comunque Cioè Si può anche controllare Però vabbè Non siamo qua A fare questi appunti Il ciclo mestruale Viene riconosciuto E trattato Come un tabù Piuttosto che Essere considerato E concepito Come un evento naturale Un processo naturale Fisiologico E in tal modo Nel corso Della storia Soprattutto Si è resa manifesta La netta distinzione Tra l'uomo E l'altro Cioè la donna Molto spesso Ora ovviamente Trattiamo le mestruazioni In maniera Un po' più ampia Visto che comunque Ci sono tantissimi Uomini trans Che hanno il ciclo Però questo è Un altro discorso Inizialmente Insomma Chi aveva le mestruazioni Era l'altra parte Era ciò Che non faceva parte Della gerarchia di potere L'avere etichettato Il ciclo mestruale Come un tabù Ha permesso Per moltissimo tempo Di utilizzare Proprio le mestruazioni Come un agente ostativo Che impediva Alle donne Di partecipare Alla vita comune Di essere partecipanti Attive Nella società E quindi È diventato Un vero e proprio Mezzo Di controllo sociale E quindi È diventato Un vero e proprio mezzo Una vera e propria Giustificazione Per il loro controllo sociale Da un lato Storico E anche Molto pratico Diciamo Era impossibile Comprendere E spiegare Perché Questo sanguinamento Che si perpetrava Per giorni Non uccidesse le donne E questo ha prodotto Ovviamente una serie Di credenze Sul fatto che Proprio questo Avesse delle valenze Arcane Soprannaturali Per questa superstizione Proprio il sangue Mestruale Nel corso del tempo Ha assunto significati Di tipo simbolico Esoterico Con diversi gradi Di positività Ma molto spesso Con diversi gradi Di negatività Dipendenti però Sempre dalla società Di riferimento Questo tabù Di fatto Comuna Tutti i patriarcati Sia in occidente Che in oriente Che al sud Che al nord E per questo Troviamo il tabù Presenti In numerosissimi Popoli e culture Da quella Giudaico cristiana Dalla quale siamo Partiti con questo video Con quella citazione Del levitico Secondo cui Di base Il corpo della donna Era l'origine Della contaminazione Anche di quella Dell'uomo Capace proprio Di inquinare Anche quello Degli uomini Anche in alcune Interpretazioni Dell'islam Pur non essendo Una ram Cioè un dettame Cioè un obbligo Potremmo dire E anche ancora Nella cristianità In molti paesi In giro per il mondo Durante il periodo Di mestruazioni Le donne Non possono accedere Ad esempio Ai luoghi sacri Ai riti di preghiera Le donne Non possono partecipare In momenti di preghiera Oppure devono fare Dei bagni purificatori Prima di compiere Le preghiere canoniche Penso anche Alle culture Dell'antica Grecia Di Roma antica In molte culture In molte religioni Dell'India In Nepal In Bangladesh Insomma eccetera eccetera Perché davvero I posti I luoghi E le culture Che demonizzano Comunque Gettano lo stigma Sulle mestruazioni Sono moltissime E ancora oggi Limitano fortemente La libertà individuale Delle donne Soprattutto nelle loro Attività quotidiane Sembra persino assurdo Questo me lo concederete Che moltissime Credenze Che noi attribuiamo Proprio al ciclo mestruale O che sono legate Alle mestruazioni Sono esattamente Le stesse Che noi attribuiamo Ai vampiri Beh ci sono credenze Dove chi ha le mestruazioni Non si può specchiare Perché gli specchi Si fanno opachi Se una donna Con il ciclo Tocca una coppa di vino Il vino si nacidisce O se tocca Delle giare di vino Queste rischiano Di andare male È impossibile Entrare in casa Di qualcuno Se non esplicitamente Invitate Quanto spesso Si raccontano Le mestruazioni Come in grado Di contaminare E indebolire Chi sta attorno In moltissime culture Da occidente A oriente Da nord A sud Sono presenti Proprio questi Queste sorte Di leggende Non va poi Dimenticato Che tantissime persone Ancora oggi Non hanno Accesso A condizioni Igenico-sanitarie Adeguate E che il periodo Di sanguinamente È un tema Estremamente rilevante Per loro Da chi fatica Ad avere spazi Igenici Dove poter gestire Le varie pratiche Lavarsi E cambiarsi Avere accesso Ad assorbenti A medicinali Nel caso servano Penso alle donne Senza tetto In primis Che sono presenti Ovviamente Anche in tutte Le nostre città O le donne Che vivono Nei luoghi Di forte Repressione Femminile Oppure tutte Quelle persone Che vivono In luoghi Dove non c'è Un accesso Diretto All'acqua O alle strutture Sanitarie Dove non è possibile Attenuare i dolori Mestruali Grazie a dei medicinali A delle preparazioni A dei decotti Quando le persone Non hanno accesso Ai prodotti Per il ciclo Non solo Non si sentono Sufficientemente protette Ma a rischio Ci sono la loro fiducia La dignità E anche la loro istruzione È meno probabile Che queste persone Siano in grado Di partecipare Alla vita scolastica E alle attività Desse legate O alle altre attività Che potrebbero fare parte Della loro Diciamo quotidianità E non solo ovviamente Perché è probabile Che si sentano Inadeguate E non solo È anche probabile Che si sentano Più distratte O incapaci Nel compiere Anche le più Semplici azioni Quotidiane L'incapacità Di raggiungere Concentrarsi E svilupparsi Al massimo Del proprio potenziale Perché sono troppo Occupate magari A soffrire Perché sono magari Troppo concentrate Sull'evitare Che le persone Si accorgano Dei loro sanguinamenti Cercano di nascondere Sia il dolore Che la vergogna Ed eventualmente Anche le conseguenze Di condizioni Igenico-sanitarie Non adeguate Perché potrebbero Portare ovviamente Ha degli sviluppi Nettamente peggiori È per questo Che è nato Il movimento End Period Poverty Per garantire E supportare L'accesso A prodotti sanitari Spazi sicuri E igienici Nei quali utilizzare Questo materiale E il diritto E il diritto Di poter gestire Le proprie Mestruazioni Senza stigma Senza vergogna E anche in condizioni Meno umilianti Oggi gli assorbenti Ci sembrano qualcosa Di scontato Quasi banale Li demonizziamo Perché sono Assolutamente inquinanti Molto spesso Proprio per l'impatto Ambientale Che comporta Il loro smaltimento Ma non dimentichiamo Che nel corso Della storia Gli assorbenti Sono stati Uno dei principali Motori E motivi Di emancipazione Delle donne Parlo di donne Di nuovo Non per escludere La categoria Degli uomini trans Ma perché Ci sono questioni Di genere Innegabili In questo momento Senza gli assorbenti Noi dobbiamo Pensare Che le persone Sono ricorse A qualsiasi Mezzo Per impedire Che il sangue Colasse tra le gambe E si rendesse Visibile Ed evidente Alle altre persone Dai papiri A volte Delle antiche egiziane Dai tamponi Fai da te Fatti Nella migliore Delle ipotesi Col cotone Se no con le foglie Con la carta Col muschio Con la lana Con pelli di animale Bisognava ingegnarsi E ovviamente Le donne Nel corso della storia Hanno fatto Quello che potevano Con i mezzi Dei quali disponevano Nel tempo Sono arrivate Le spugnette Per chi poteva Gli stracci da cucina E anche per le donne Più ricche Gli avanzi di stoffa E dobbiamo anche ricordarci Che non esistevano Le mutande Come noi le conosciamo oggi Le donne si dovevano Ogni volta ingegnare Per legarsi Questo manufatto Accrocchiato In maniera Ovviamente Molto rudimentale E fissarlo In maniera creativa Tra le gambe Perché dovevano In qualche modo Impedire Che il flusso Uscisse E macchiasse Ovviamente I propri abiti E comunque Si vedesse Dall'esterno Insomma Tra spilli Calzoncini Corde Insomma Tra spilli Calzoncini E corde Di vario genere Insomma Le donne Si sono davvero Molto ingegnate Con quello che potevano E nei modi Che riuscivano A raccimolare Nel corso della storia Insomma Si sono attrezzate Un po' Come potevano In occidente Solamente durante La prima guerra mondiale Alcune infermiere Da campo Si sono accorte E hanno intuito In maniera molto brillante Che le bende di cellulosa Che venivano ovviamente Usate per curare Le ferite dei soldati Assorbivano il sangue Molto di più Che del tessuto normale O comunque meglio Del cotone Che era molto più Diffuso ai tempi E così Fondamentalmente Nasce La base Dell'assorbente Quindi Abbiamo contezza Di quanto sia Qualcosa di recente Soprattutto perché Se è stato Pensato Attorno alla prima Guerra mondiale Immaginatevi anche La creazione Di una rete Di distribuzione Di produzione Massiccia Solo quanti anni Dopo è arrivata È un'invenzione Estremamente recente Lo stigma E il tabù Che ruota attorno Al mito delle mestruazioni Ha davvero prodotto Dei risultati Molto imprevedibili Delle reazioni Davvero portentose Con la battaglia Per l'abbassamento Dell'iva O ancora di più Che è la richiesta Di moltissimi collettivi Quella della distribuzione Gratuita Di assorbenti Sono nati anche Dei movimenti radicali Che hanno portato Al fenomeno Del free bleeding In italiano Si può tradurre Sanguinamento libero Per quanto A un primo sguardo Possa sembrare Qualcosa di estremamente Disgustoso Per molte persone Pensate cosa significhi A livello sociale Mostrare in una maniera Così plateale Qualcosa che per tutta la vita Si è tenuta nascosto Che ha governato Il senso di vergogna Che hanno provato Moltissime persone E che hanno dovuto Tenere nascosto O sminuire Per tutta la vita E c'è di fondo Anche un ragionamento Da fare Sul perché è nato Il free bleeding Che non è assolutamente Una banale Spettacolarizzazione Del ciclo L'intendo Ovviamente Non è quello Ma è una risposta A tutto ciò Che è ruotato Attorno Proprio Alle mestruazioni Perché finché Il ciclo mestruale Rimane qualcosa Di nascosto Invisibile Finché le mestruazioni Non si vedono O non fanno parte Del tuo quotidiano I dolori Non saranno mai Sufficientemente rilevanti Il disagio Sarà poca cosa E la legislazione Che ruota attorno Ai circa 2400 giorni In media Nella vita Di una persona Che ha le mestruazioni Non sembreranno mai Un problema Vero e proprio Un problema Al quale prestare La dovuta attenzione Oppure Non ci saranno mai Sufficienti presupposti Per mettere in discussione Sia la narrazione Che si fa Delle mestruazioni Che la legislazione Vigente Peraltro Penso in questo momento A tutte le persone Che soffrono Di endometriosi Io penso Che sia una Di quelle cose Che Se uno non la sperimenta Non può assolutamente Capire il dolore E penso che L'endometriosi Sia una di quelle malattie Di cui non parliamo Che non conosciamo Che spesso I medici Sminuiscono E difficilmente Riescono a diagnosticare O a indirizzarti Attraverso le persone giuste Ma penso che L'endometriosi Sia una di quelle malattie Croniche Più dolorose Che una persona Possa mai sperimentare Nella propria vita E una di quelle malattie Che vengono Continuamente Sminuite E poco Sondate Nella medicina Attuale Soprattutto dal nostro Sistema sanitario Non avete idea Di cosa voglia dire Avere l'endometriosi E potete ritenervi Fortunati O fortunate Se non l'avete Aggiungo un'ultima postilla Prima di chiudere il video Ovvero Dedicata agli uomini trans Chiaramente Chiaramente noi Tendiamo a pensare Alle mestruazioni Come qualcosa Che caratterizza Solamente le donne cis Ma intanto Non caratterizza Tutte le donne cis Perché problemi Legati al ciclo All'ovaio policistico E a tutta una serie Di problematiche Fisiologiche E Non solo Possono portare E comportare Nel corso della vita Anche delle donne cis A non avere il ciclo Ne Mai O anche magari Solo di rado Oppure qualche volta O per determinati periodi Ma è anche un problema Che ovviamente Complica ancora di più La vita degli uomini trans Che ovviamente Può comportare Anche tutta la sequela Di cose Che possono Ruttare attorno Alle mestruazioni Dal dolore mestruale Banalmente All'acquisto di tutto Il materiale Che ovviamente serve E al disagio Che si prova Ovviamente così Ma è un disagio Che per gli uomini trans È ancora più acuito In quanto È una parte Che molto spesso Per tantissimi uomini trans Sottolinea Infatizza E acuisce Il senso di disforia genitale Fisica E quindi Anche in questo caso Chiaramente Anche parlarne In un'ottica Che includa Anche ciò che succede Al corpo Di questi uomini È particolarmente Legato anche Lo stigma Che si vive Io direi che Dopo questa Lunghissima discussione Noi potremmo Essere arrivati Alla fine di questo video Io spero che Insomma Questa prima parte Introduttiva Che è stata introduttiva Ho toccato 8 milioni di cose Mi dispiace Se non sono andato In profondità Con tutto Comunque vi metto Nell'infobox Di nuovo Tutta la sequela Di approfondimenti Che potete fare O che spero che farete Insomma E ci sono tante discussioni Spero davvero Che la tampon tax Torni ad essere Una parte integrante Che si è resa Inevitabile In questa pandemia Perché l'accesso Anche agli assorbenti Al materiale igienico Sanitario Alle visite Che servono È estremamente In difficoltà Ed è compromessa E soprattutto Le visite Delle persone Che hanno Malattie croniche Legate magari Al proprio ciclo All'ovaio policistico All'endometriosi Eccetera Io l'ho sperimentato In prima persona Poche settimane fa Fare le visite È un disastro È una cosa Davvero complessa Io sto in Emilia Romagna Che penso Abbia una sanità Eccellente Quindi insomma Ragioniamo sempre Su questi temi Che non devono mai Passare di moda Perché ancora oggi Per quanto cerchiamo Di sminuirlo Controllare Il modo in cui Narriamo Parliamo E legiferiamo Sul ciclo delle donne È una forma di controllo Quindi Continuiamo a parlarne E continuiamo a discutere Io spero che questo video Sia stato interessante Di nuovo Buon Feminist Friday A tutte e tutti voi Direi che per questo video Siamo arrivati alla fine E per tutto il resto Ci vediamo alla prossima Ciao